Ciao a tutti patatini e patatini e benvenuti in questo nuovissimo video Sono qui oggi con Angela e mamma Ciao E oggi giriamo il video degli assaggi di queste caramelle schifose Queste qui le avevo prese a Milano quando eravamo andate io e lei e Giulia Quando c'era Giulia che abbiamo fatto l'incontro E vedendole ho detto no le devo comprare così ci faccio il video E queste qua sono con sia gusti normali che gusti schifosi Tipo gusto calzini sporchi, tipo gusto uova, gusto popcorn che però non fa schifo ma è buono Gusto dentifricio, vomito, cibo per cani, salviette di bambino, insomma un sacco di altri gusti Madonna, madonna Cos'è quella roba? Porca, già si sente l'odore di di cane Oh mio dio Io direi di non stare ad annusarle ma a mangiarle Allora, tiriamo su a caso Quindi inizio io Non voglio ne guardare il colore né niente Mamma mia Che captezza sto sacchetto Ok io ho preso questa Io ho questa Vabbè dai da tu E io ho questa qui Vabbè ok Dovemo indovinare il gusto, via Popcorn Oh se inizio già a prendere le tue buone non gioco più C'è qualche frutto qua in mezzo? C'è pesca? Eh Pera? Pesta forse Ah forse è il mio cocco? Può essere Perché anche io ci avevo pensato prima al cocco Cocco Vai Secondo giro Io sento già l'odore di cane Ma per pupare Non voglio Sì tu sei Sai di Thor Sai di più per carico Non voglio maffregarla Fa veramente Oh ma io la so Allora io l'ho beccata buona Di patatina Ma perché? Non becco buone Però non è male di patatina Help me Ma sono io che puzzolo di piedi Senti sto odore Sì È allucinante Mischio un po' ste cose Perché due volte è il cappettino Io non le riesco a beccare Via Questo è buono Dentifricio Lenta Lenta Ma tutti uguali Tutta la frutta Tutta la mia è dolce Non so Quelle schifose La patatina è buona Quelle schifose Tipo cacca di cane Cipo di cane Pannolino E magari se a me piace il pannolino Mamma senti qua Così sembra Sembra il colluttorio Cipo di medicina Dottor Knapp Cos'è? No C'è tipo 40 peperoni Non è molto buono Cos'è? Vomito? Allora è vomito Oh mio Dio Alita Non voglio il reale Vomito Vomito Che schifo Via Mamma mi dolore Mamma Anche te la condizione Ti hai dato Questo non fa scherzo tanto Ancora più del cane No È vomito ancora Ma non hai calzini sporchi Che cavolo Senti che roba A me è giuda Uovo rotto No Che cosa fa? Tu? È schifo Ma non mi interessa Adesso assaggio uovo rotto Lo anche a prendere volontariamente Non riesco a beccare la schifosa Non è che a te ti piace Pronti tutto? Dai salviette Confide in te Buona? Gloria cavia Vero? Vedi che è schifo Fanno cagliare però Oddio Questa è brutta Questa è schifosa Sì Effettivamente Ma che cazzo di gusto è? Ma che cos'è sta roba? Non so Mi ha fatto schifo Io l'ho spettato Ma che cos'è? Ma che ti ha senza Se sei giusto Questa fa schifo Nanananananananananananananananananananananananananananan Mi 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 con le mani Tiri come uragani E la canzone fa Ma tutti gli sposti Eh ma com'è? Che buono Ne abbiamo preparate tre che stanno proprio di schifo a Isa Isa Non so già che si piglia Bianca Il cocco Vuol dire la telecamera? Com'è? Buona Questa è un'altra come te Nenani Sa di dentifricio la zia E' vero? Tu? Salviate per bambini Questa non è buona Questa di che sa? Anitta la zia Haah haah C'ha ragione Ha l'hai lì la zia Aha questa fa schifo Ti piace? Questa М sta qua è tipo SON' tutte buone Alla fine Sembrava per si gli sporchi Che avevano usato tu prima Che avevano usato tu prima Rodino E' dolce Vadda che son' dolci he Siし Cioè ti senti proprio Quell'aroma Che però Col dolce Che serenale Vatti cinco Temeraglia Iba Ibasella Super Vabbè, detto questo, io ne comprerò sicuramente altre, ma me le mangerò da sola per scoprire tutti i gusti Con isa, vedi? Mi piaceva tutto anche lei Spero che questo video mi abbia tenuto compagnia a ridere, non so, perché alla fine ci ha fatto ridere più a noi, mi sa E niente, noi vi salutiamo, vi mandiamo un brazzo, un bacio e ci vediamo al prossimo video Ciao patatine patatine! Ciao, ciao, ciao! Ciao!